I finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, con il coordinamento della Procura della Repubblica, direzione distrettuale antimafia, stanno eseguendo un provvedimento emesso dal Tribunale di Reggio Calabria per la confisca di beni del valore stimato di circa 11,5 milioni di euro, appartenenti a un imprenditore gioiese attivo nel settore dei rifiuti. L'imprenditore è stato individuato nel contesto dell'operazione Malapigna, condotta dai carabinieri di Reggio Calabria, dove è stato considerato capo della COSCA Piromalli e finanziatore del gruppo criminale, particolarmente nel settore dello smaltimento dei rifiuti ferrosi e metallici, con legami anche ad altre organizzazioni mafiose. Le indagini hanno rivelato che l'imprenditore coinvolto nel sodalizio fin dagli anni 90 ha assunto un ruolo predominante nell'organizzazione, facilitando il riciclaggio di proventi illeciti per conto dell'andrangheta. Basandosi su prove dettagliate e riscontri documentali delle attività economiche, il Tribunale ha ordinato il sequestro e successivamente la confisca di un vasto patrimonio, incluse tre società, un'impresa individuale operante nel settore dei rifiuti metallici e delle costruzioni, 37 veicoli, tre terreni, quattro fabbricati, orologi di lusso, gioielli, circa 75 mila euro in contanti, oltre ai rapporti bancari, finanziari e assicurativi, per un valore complessivo di circa 11,5 milioni di euro. Inoltre è stata applicata all'imprenditore la misura di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per quattro anni, con obbligo di residenza nel comune di domicilio.